Il primo cittadino del comune di Crognaleto, Giuseppe D'Alonzo, ha conferito la cittadinanza onorale ad Angelo Borrelli, ex capo dipartimento della protezione civile. Borrelli collegato online con il Consiglio Comunale del Centro Montano, evento trasmesso in diretta streaming, durante il suo intervento ripercorso anche il suo importante lavoro portato avanti nella prima fase della lotta alla pandemia legata al Covid. L'intero Consiglio ha voluto esprimere questa solidarietà verso la persona, verso non tanto i ruoli ma la persona stessa che ha profuso un'attenzione particolare nei momenti più difficili e del territorio e delle persone e della stessa istituzione. Io ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare in protezione civile per 19 anni, sono entrato al Dipartimento della protezione civile nel 2002 e ho visto tutti gli eventi calamitosi che hanno colpito il nostro paese, ma ho visto anche grandi momenti come quelli che erano i grandi eventi culminati nel G8 dell'Aquila in cui la protezione civile è riuscita a dare il meglio di sé e il nostro paese altrettanto. Ho avuto modo di conoscerti e di conoscere le difficoltà del Comune di Cronialeto durante il terremoto del 2009 e come hai detto tu abbiamo avviato un percorso, un confronto, un'attività di supporto perché vedete fare il capo della protezione civile significa mettere al servizio dell'intera collettività tutto il proprio tempo e le proprie energie e non tirandosi mai indietro. Il mio modo di operare, come tu hai ricordato, attraverso le plurime telefonate era il modo per risolvere i problemi. Siccome i problemi sono tanti e le esigenze che arrivano al capo della protezione civile sono le più disparate o, come dico io, si afferra il toro per le corne e si mette in collegamento i vari soggetti e si risolve subito la questione o altrimenti si rischia di farla cadere nel dimenticatorio. Vedete, nel corso degli ultimi tredici mesi stiamo affrontando una pandemia che ancora oggi ci limita nel nostro operato, nella nostra possibilità di movimento e per questo che siamo collegati in questa forma telematica, ma sono convinto che con le misure che sono state poste in campo dal governo sin dall'inizio della pandemia e ancora oggi con il piano vaccinale si possa arrivare quanto prima a sconfiggere e limitare la pandemia in modo che si possa riprendere una vita normale che tutti quanti noi auspichiamo.